Siamo qui a festeggiare il primo anno di botteghe di cultura, un progetto importante, importante per il quartiere, un bosco importante per tutta la città. Quest'anno quattro botteghe, quattro associazioni, quattro progetti di riattivazione del quartiere che hanno portato a un risultato straordinario che oggi si può vedere qui in questa piazza e nei suoi festeggiamenti e nel coinvolgimento di gran parte della popolazione della città di Bolzano. Per cui buon compleanno, tanti auguri e cento di questi anni. Ebbene sì, anche botteghe di cultura diventa vecchia. Oggi festeggiamo il primo anno di compleanno e non potevamo desiderare una festa di compleanno migliore di questa. Che dire, le grandi mission di botteghe di cultura, quello di creare coesione sociale, di creare, di coinvolgere la comunità, di creare collaborazioni con i soggetti, con le associazioni del quartiere, ma anche con i commercianti di Don Bosco, beh, si vede dalla festa che ci circonda. C'è musica, c'è l'angolo libri, c'è l'angolo attività per bambini e per ragazzi, le associazioni che si presentano, il cibo, il bere. Nonostante tutto si dica, è comunque un quartiere vivibile, ci sono molte attività, si spera che ne arrivino sempre di più e magari diversificare le varie attività. Quartiere dove vivono parecchie etnie, diciamo, e secondo me si va anche abbastanza d'accordo. Un anno di botteghe di cultura, un anno di vita, un anno di luce accese, di negozi aperti, ma anche di tante attività, di scommesse, di progetti, ma soprattutto di speranza. E io credo di questa ne abbiamo tanto bisogno, in questa piazza e in tutta la città. E l'Istituto, da questo punto di vista, è al servizio. Grazie a tutti.